Il programma ormai è un percorso consolidato che abbiamo fatto nel tempo con gli amici di igiene che colgo l'occasione per ringraziare, stiamo sempre migliorandolo passo dopo passo e la conferma e la qualità anche delle persone che si vengono a trovare presso i nostri segni. Abbiamo tanta voglia di lavorare e ci mettono tanto impegno, disciplina, ma soprattutto che spero che capiscono quanto è un'attività gratificante nel tempo. Il talent è un'esperienza che consiglio caldamente a tutti coloro che dovrebbero considerare la carriera di uno student finanziario. È un modo per mettere in pratica ciò che magari si studia all'università, a scuola di un libro teorico ed è un'esperienza davvero straordinaria. Il programma mi ha servito per conoscere la professione del consulente finanziario, conoscere la giornata tipo. Lo consiglio caldamente a chi dall'esterno non conosce questa professione, però se ne vuole affacciare e vuole capire come funziona anche la gestione dei clienti. Conoscere una realtà così bella come quella di Asimuth e che invece soprattutto sulla formazione di noi studenti che oggi come non mai abbiamo bisogno di certezze e soprattutto di voglia di studiare e voglia di imparare. Sono a parte di dare che si trova ultimamente e sono a parte di questi decoli. Lo che mi ha lasciato è stata una forte emozione e soprattutto capacità critica più precisa nel giudicare questo tipo di lavoro. Lo consiglio ovviamente a chiunque voglia provare questa professione.